o a Trieste. Andiamo con la pubblicità e partiamo ovviamente con la frasca a Dolina del Coglio. Ed ecco qua Cesare, si aprono le danze, la stagione della frasca. Vai Cesare, a Dolina del Coglio. Infatti ricomincia la stagione della frasca, il ristorante che è aperto dal mercoledì alla domenica con il menu tipico. Venerdì e sabato cena con musica e divertimento. Vi aspettiamo. Benissimo, il grande DJ Simone con la scia, eccolo qua, con la musica degli anni 60-70 e la grandissima Lucia con tutto lo staff e con le veline e con il grande Ras Degas. Ecco Monica. E lo schiuma party, abbiamo visto all'inizio alcune immagini. Lo vedremo, e grandi cuochi ed eccolo lì Ras Degas con Rosa. Ed ecco qua, pre, feste, pranzi, cena, ecco le veline, Cesare. Allora, vogliamo ricomincia la grande stagione della frasca col grandissimo DJ Simone. A Dolina del Coglio, aperto dal mercoledì alla domenica con un menu tipico. Benissimo, ecco alcuni momenti, alcune feste. Allora la frasca a Dolina, iniziano le danze. Fino alla pubblicità. La festa continua. E vai, andiamo con il schiuma party Cesare. Ti faccio vedere le feste che ci sono, musiche, guarda qua, pranzi, jene. E qui era un addio al celibato, mi sembra. Esatto, ma c'è addio al celibato, feste di squadre, di fabbrica, fine, ma tantissime cose. Eccoli qua, andiamo a vedere i uomini. Intanto ti faccio vedere per le donne, gli uomini, gli uomini. In Furlan come si dice? Aions. Aions e le donne come si dice in Furlan, le donne? Le femminis. Le femminis, va che nome. Eccolo lì nel segno del cancro oggi in fondo. La rola, una scura, una rossa. E intanto, vedi, vedi, siamo come in Arabia, capito? I uomini mangiano da una parte e l'uomo dall'altra. Ma non c'è problema. Ma c'è anche un uomo quindi lo stesso. Ma a un certo punto cosa succede, Cesare? Le danze cominciano e c'è... No, c'è, scusa, c'è la riunificazione. C'è appunto oggi. Con le danze che cominciano c'è la riunificazione dei sessi. Hai capito? C'è tutto il movimento, Cesare, senti voi. La movida di Dolegna. Eccoli lì. Non soltanto la movida catalana o madrilena, ma anche quella del Collio. Ed eccole qua la dottoressa lì in mezzo che mi cura sempre. Ogni tanto col dolor sa per tenere in sua spalla la... Ma hai sentito detto, monsignor Sergio? Sì. Che sono sempre con quella tua croce. Capito? Con la telecamera. Con la telecamera, sì, sì, sei come Gesù Cristo sul Golgotha. Eccola, dottoressa, ma che ho... Devi espiare i tuoi peccati, Roberto. Cesare, diamo, siamo... Possiamo parlare anche in dialetto, perché ha detto sempre il senator, il senator che bisogna curare. Il dialetto. Questo si chiama Alessio, non ci sono dubbi. Benissimo, ce l'ha detto anche lui. Allora, grandi feste, grandi musiche, con il grandissimo DJ Simone e tutto lo staff. Dopo vedremo anche le venine e la grande cantante. Qua c'è grande musica la sera. Allora, volevo segnalare, forse Roberto non si era accorto, e sul... Rosa! Sì, questa è Rosa. Vai. Sulla maglietta di quel personaggio che aveva il testone alla Judd Brunner. Michela, vai. C'era scritto Despetenat, che vuol dire spettinato. Ecco, loro sono spettinati. Vedi, lui a destra è spettinato. Ecco il cuoco. Ti devo dire che ho mangiato qua una trisse. E devo fare i complimenti al cuoco, veramente buona. Bravo. Ed eccolo l'India, è la Jones Cesare, Bioplicumo, di l'India Letto. Ecco la grande cantante, una potenza delle potenze. Qua c'è musica, c'è festa, c'è di tutto Cesare. Che si canta, si balla, ci si diverte. E naturalmente si mangia. Ed ecco il gioiello dei gioielli. Ma cosa fa? Muove tutto il balcone? No, probabilmente rompeva il ghiaccio. Ha rompeva il ghiaccio, Cesare. Proprio in senso letterale, non figurato. Io pensavo che era un terremoto, Cesare, si muoveva tutto il balcone. Ecco Rosa, Cesare, guarda le linee veline, delle veline. La Rosa e la Michela. Speriamo che si chiami Michela, perché dopo un po' di tempo, sai che non siamo capiti. Ci siamo dimenticati. Eccole qua, le due dolcezze delle dolcezze. Salutò anche il suo papà, Beniamino, e sua mamma, Anna. E questa chi è invece? Ecco l'ambeccata, fra mezzo e due mi hanno detto, filmami quel bel gioiello. Ma se sei la mia, scusi. Ecco la Lucia. Non era una conoscenza. Ecco la Lucia, delle Lucie, con il suo solito voice. Vai col cuore, va che amor, Cesare. E guarda questi due come chi, balla in modello. Un altro in despetenate. Balla in modello, eccola lì, altre due veline. Un biondo e una sul modello Freezer. Bella lì, Cesare. Viot le gamutis le calzutis, come si chiama Cesare? Ecco Rardegal, Cesare. Viot di come, di lo anche in dialetto tristi. Ciao la Cerobis, ciao la Cerobis. Piano in dialetto tristi. Ecco Monica delle Moniche, la potenza di Gorizzi. Eccola lì e guarda i fuochi. Ma cosa succede, Cesare? Arrivano le corce ad illuminare la notte di Dolegna. Direttamente da Rimini, sono arrivati per festeggiare, per fare questa grande festa. Ah, è vero, sì, sì. Ed eccolo lì. Il regista era un novello Fellini, non un regista di film, appunto come il grande Federico Fellini, che appunto era di Rimini. Lui non era un regista di film, ma un regista di feste a tema. Il tema della festa è la schiuma. Cesare, vai, Cesare, vai lentamente, vai lentamente con i piedi, ci dicono anche Fetons. Vai tranquillo che lì non c'è problema, ti puoi tirare giù le scarpe. E' vero, scivoloso penso. Io stavo un po' a distanza. Roberto, ti sei tuffato o nel vortice? Io sono stato un po' a distanza, Cesare. Altrimenti rovinavi la telecamera. La telecamera è come la mia donna, capito? La tengo stretta perché me fa manià, me fa manià. E allora salutiamo sempre grandissimo il zio. Salutami il zio. Allora salutiamo il zio Teo, seduto, sul divano, che ci guarda sempre. Volendo proprio puntualizzare, visto che l'altra settimana mi hai bacchettato, si dice lo zio, Roberto. Lo zio. E invece ti devo dire che tu l'altra settimana non hai letto bene e ho corretto dopo. Non avevo messo splendore, non avevo messo la P. E ho detto ma guarda sto Cesare che non mi ha neanche letto il paio. Quindi era diventato un slendore. Slendore, eccetera. Ho detto ecco Cesare, gli ho detto, gli ho detto Cesare stami attento. Non mi era accorto, non mi era accorto questa volta. Prendo tutte le colpe. Ok, allora andiamo con questa grande festa, guarda che roba. Ah poi con quel caldo che c'è adesso ti immagini che festa, che roba. Vai con la musica. Eccoli lì. E allora vogliamo dire questa è la grande festa. Ma queste persone una volta che poi ritornano a casa, come fanno a salire in macchina? Ma probabilmente si fottono i vestiti. Allora io torno all'interno e guarda che festa. Tu non vuoi stare a fare con la sua? Si balla anche sui tavoli. Certo, dopo ho mangiato, dopo ho fatto tutto questo bel giro, perché qua c'è grandi feste dappertutto. Per digerire. Poi vogliamo dire feste libati, feste denubilati, feste... Ecco il grandissimo DJ Simone, di Otti di Kumo, che è il gelì. Non può disfadimanco. Musica degli anni 60, 70, 80. Il DJ Simone. Eccoli, sortiamo anche il bar che si trova a Cividale. Guarda lì, mi sono messo dietro. Il ballo di Simone. Eccoli, mi sono messo dietro. Alle finestre Cesare, così non mi sporcavo. Adio, adesso cosa lanciano i gavettoni qua? Guarda che roba Cesare. Ma tanto sono già tutti inschiumati, come si può dire. Schiumati, eccolo lì. Lo schiuma party di Dolenia. Benissimo. Grande divertimento per i giovani. Grandi feste, allora vi ricordiamo, Gorizia TV cominceranno le danze di queste grandi feste. Saremo in giro per tutti i locali. Attenzione, Gorizia TV, pronti. E vai con le feste, vai con la musica. Eccoli qua, le tre dolcette Cesare. Guarda lì che roba. Eccoli lì, guarda che festa, che musica, tutto questo. Guarda lì, ti amor, ti amor. Tu Cesare puoi venire tranquillamente, no? Però anch'io. Tu ti sbagli, ti vai a sedere direttamente, non ci sono le donne. Dici scusate, ho sbagliato. Io fingo di sbagliare. Esatto, e vengo anch'io Cesare. E dico, ma scusate, mi sembra... E ci sediamo lì. Probabilmente tu ti sposi, io mi risposo. Adesso vedrai che cazzo... Non tu filmi il matrimonio, Roberto. E' vero, io filmo il matrimonio, esatto, hai ragione. Benissimo. Questa la tua attività professionale è questa. Allora, attenzione, salutiamo gli amici di Spilimbergo. Eccoli qua. Benissimo. Ciao, Spilimbergo. Allora diciamo, diciamo, grandi feste a Dolegna. Schiuma party, feste, sinologia. Miocca, come che lavora, Monica. Eccola lì, la rossa che conquista. Grande impegno al bar. Guarda quanti bicchieri. Guarda che bacio che ci dà. Vai. Un bacio a tutti. Eccoli, facciamo un buon lavoro perché sta lavorando veramente in modo pavento. Alla grande. Alla grande, come si dice. Ed eccole qua, guarda qua. Siamo quasi a rifare di conclusione, Cesare. La schiuma non manca, la birra nemmeno. Ma benissimo, vai con la festa. Guarda come che si balla in questo schiuma party. Allora vi ricordiamo, grandi feste. Ritorna le danze. Eccoli lì. Allora, vogliamo ricordare Cesare, siamo rifando di conclusione. Un grande soltone, facciamo. Per le vostre serate, per i vostri divertimenti serali, preferite la grande festa che si tiene a Dolegna del Coglio. Possiamo dire. Ripreso dalle telecamere di Gorizia TV. Vogliamo ricordare a tutti? Vogliamo ricordare a tutti? Volete avere delle feste speciali? Chiamate Gorizia TV.